La questione di fondo è questa invasione da parte della politica su Attac. Non è chiaro neanche questo punto perché a un certo momento sembrava che la forza di Attac, la sua capacità turbativa, avesse a sua volta inquinato la politica. Comunque, diciamo così, è abbastanza difficile immaginare che le gare, di qualsiasi forma siano liberalizzanti o privatizzanti, abbiano poi questa virtù salvifica nei confronti dell'amministrazione comunale che la risalano, nei confronti di Attac che diventa una società di ingegneria altamente qualificata, e addirittura del sindacato, riforma il sindacato. Insomma, una gara può avere queste funzioni? Evidentemente no. Occorrono un insieme di azioni coordinate e congiunte, un processo che intervenga sulla riforma del comune, dell'ente pubblico, dell'azionista attuale, sulla riforma dell'azienda e sulla riorganizzazione del trasporto secondo le modalità di flessibilità, di diversità che le differenze tra le persone e la situazione della città impongono. Voglio dire da questo punto di vista che un problema essenziale è tenere insieme la necessità di riformare la struttura del servizio pubblico, ma di riformare anche l'ente pubblico, la parte che dovrebbe dirigere, la parte che dovrebbe programmarla, che attualmente non è capace di farlo. E' abbastanza sorprendente che adesso non sia capace di farlo e il giorno dopo la gara invece espliciti questa sua... Quindi è un processo molto complesso che non può risolversi nel sì e nel no alle gare, proprio perché investe la riorganizzazione del servizio e la ristrutturazione dell'ente pubblico più in generale, dell'azionista pubblico, da questo punto di vista è anche discutibile che la modalità di riorganizzazione dell'azienda non investa un punto cruciale, e cioè il fatto che l'Atac è una società per azioni. Cioè è una società che non solo con le esternalizzazioni di molti servizi ha incentivato, o ha privatizzato una parte consistente della sua attività, ma che si muove esclusivamente nell'ambito del diritto privato, in cui la dimensione centrale è il ritorno economico, la sostenibilità economica, e non la capacità di affrontare i problemi sociali differenziati che il sistema del trasporto deve affrontare per rendere accessibile la città, i servizi, alle differenziate rappresentanze di cittadini. Quindi l'importanza del referendum su questo concordo e di un dibattito deve fuoriuscire da questo mito della liberalizzazione e della privatizzazione. Anche perché adesso noi sottolizziamo sulla liberalizzazione solo del servizio, cioè delle persone, della manutenzione, ma è finanziata dal pubblico, no? È finanziata dal pubblico, svolge un servizio pubblico, il rischio di impresa è molto relativo, perché il rischio di impresa non c'è, diciamo, nel momento in cui entrasse in crisi deve sovventrare l'entere pubblico. Quindi in sostanza il Comune sarà chiamato a risanare tutti i problemi che queste aziende eventualmente presentassero. Quindi insomma di cosa parliamo? Perché differenziamo in questo modo così netto liberalizzazione da privatizzazione? Ciò detto è importante che si apra un dibattito affinché, appunto, come si organizza la domanda, come si organizza la programmazione, non si può farlo solo nell'ambito di una forte capacità ingegneristica e programmatrice. Bisogna farlo con un dialogo costante con le persone. Le persone che stanno nei comuni, che stanno nell'area vasta, che stanno nella regione, perché gli interessi della città vanno anche nella regione, che riguardano i diversi sistemi di trasporto, eccetera. Insomma, adesso non è il caso di presentare, diciamo, tutte quelle osservazioni rispetto al quale il Comune finora non ha mai dato risposta, che negli ultimi anni, negli ultimi dieci anni, dalla società civile, dalle associazioni, dai lavoratori dell'Atac, dai lavoratori e non dalla direzione dell'Atac, per intenderci, che è sempre stata silente su questi problemi per non disturbare, appunto, coloro che li avevano nominati, sono venute un insieme di osservazioni, di recupero del tram, di autonomia delle scelte, di flessibilità, di uso delle nuove tecnologie, in sostanza, che devono essere governate nell'ambito di un processo sociale molto complesso. Allora, il nostro augurio è che si esca finalmente da questa diatriba, no, liberalizzazione sì, privatizzazione sì, no, eccetera, e si affronti il tema centrale. Come l'Atac può tornare a essere un'impresa, diciamo, utile alla cittadinanza? Come l'Atac può tornare a essere un momento centrale nella riorganizzazione del servizio pubblico, accanto al Cotral, alle ferrovie, chiedendo alla Regione che faccia finalmente un piano regionale dei trasporti e della logistica, no, perché la Regione non ha questa documentazione, non ha neanche lei questa programmazione, e si esca, appunto, in un dibattito, in un dibattito che affronti i problemi vari, strutturali, di fondo, che sono la causa dell'attuale situazione e che non possono essere risanati affidando a uno più privati, uno più tratte o anche l'intero servizio.